Siamo abituati a vivere in un paese civile, in cui abbiamo dei diritti, libertà di espressione e di voto, stessi diritti a prescindere dalla tua situazione economica o stato sociale. Sono cose che spesso diamo per scontate, o perlomeno pensiamo che siano presenti in tutti gli stati, ma non è così, e io ne sono il testimone. Nel mio paese le cose sono ben diverse, la corruzione fa da padrona, e sostenere idee divergenti dal pensiero comune potrebbe essere un problema. E questo è il mio caso. Immaginate di essere in una manifestazione ed appoggiare le idee di un esponente X. Siete l'opposizione. Cosa fareste nel caso in cui scoprireste che la vostra vita potrebbe essere in pericolo a causa di ciò? Le vie legali non esistono, e ciò ti costringe a fidarti di persone che non hai mai visto. Non è semplice, ma quando si è disperati si è disposto a fare di tutto. Ed è così che io ho perso i miei primi soldi, affidandoli a qualcuno che mi offrì speranze per poi sparire. Tramite amici, conomi un'altra persona, che mi assicurò un ponte sicuro per andare in Europa. E fu così che dopo un paio di settimane mi ritrovai in una macchina diretta all'aeroporto, destinazione sconosciuta. Mi è stato detto di entrare dentro, io non sapevo nulla. Un uomo all'interno mi avrebbe dato i documenti necessari per partire. Mi arriva una telefonata, devo uscire per farmi timbrare il passaporto. Impresa ardua, ma fattibile. Dopo pochi minuti avevo il timbro sul passaporto. Con l'ausilio di un dipendente e un beige che non apparteneva evidentemente a me, sono riuscito ad arrivare al gate. Superai con qualche difficoltà i controlli di sicurezza. Mi erano state indicazioni ben precise, a chi dare e quando il documento. Mi siedo in credulo, un rombo di motori e sono in volo. All'atterraggio capì di essere arrivato in Italia. Scendo dall'aereo e mi dirigo ai controlli doganali. Lì scoprono che il mio timbro non è in regola e mi dicono che quando sarà possibile mi rimpatriranno. Passo sei giorni in un piano non utilizzato dell'aeroporto, insieme ad altri tre miei compagni. Non sappiamo quale sarà la nostra sorte. Ci avevano dato solamente dei buoni pasto e non potevamo acquistare nulla. Era inverno, faceva molto freddo. Il sesto giorno arrivò un uomo in uniforme, che ci portò in una sala, dove ci chiese quale fosse realmente la nostra identità e il motivo del nostro viaggio. Raccontai quindi la mia storia, dicendo la verità, senza sapere se ciò mi avrebbe potuto fare problemi. Uscì dall'aeroporto poco dopo, con un documento e un indirizzo. Mi avevano considerato come un rifugiato politico. Avevo ancora la strana paura che sarei potuto andare in prigione. Mi portarono in un centro di accoglienza. Era ancora un po' disorientato, ma volevo a tutti i costi imparare la lingua. Avevo bisogno di parlare. Ho trascorso i miei primi due anni nel centro, in quella piccola città protetta dal mondo esterno. Poi il cambiamento. Grazie ad un amico ho trovato un lavoro, e ciò mi ha permesso di essere sempre più autonomo. Oggi, a distanza di sei anni da quella odissea, mi sento fortunato e completo. Ho un solo sogno ancora. Spero che un giorno io possa tornare nel mio paese, dalla mia famiglia e sentirmi finalmente libero. Grazie a tutti.